Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Xenoverse, però siamo, come di consueto, in uno dei nostri video approfondimento. E come avrete già intuito dal titolo del video, quest'oggi andremo ad approfondire una questione abbastanza spinosa e legnosa, direi, che appunto ci è stata posta dall'ultima saga di Dragon Ball Super, ovvero la saga dedicata a Black Goku. Infatti, quest'oggi andremo a parlare un pochino del perché Mai si ritrova nel futuro di Trunks e quindi di Black Goku ad essere una ragazza giovane e quindi anche adulta, piuttosto che una persona anziana. E nel corso del tempo ho visto che anche molti di voi si sono posti questo dubbio o questo quesito senza trovare alcuna risposta. Non vi nascondo che anche io comunque mi sono domandato più e più volte del perché abbiamo lasciato all'interno di Dragon Ball la prima serie Mai come adulta, o meglio, proprio la banda di Pilaf come adulti, anche se alla fine Pilaf è un nano, e ce li ritroviamo così improvvisamente in Dragon Ball Super come dei bambini. Ed a maggior ragione nel futuro di Trunks invece ci ritroviamo Mai addirittura adulta, che in un certo senso comunque flerta proprio con Trunks, quindi creando un vero e proprio rapporto di amore. E come vi dicevo questa è stata una questione che ha posto non pochi dubbi, anche per quanto riguarda me. Però credo di aver trovato una risposta e questa possibile risposta probabilmente è racchiusa proprio nel primo film dedicato a Lord Beelze e quindi anche al Super Saiyan God, ovvero Dragon Ball Z Battle of Gods. Infatti credo che nel corso del tempo comunque a molti sia sfuggita una scena in particolare della banda di Pilaf, perché comunque lasciamo perdere che come personaggi sono poco importanti. Ora, Mai ha preso comunque una certa importanza all'interno del futuro di Trunks ed anche all'interno di questa saga, però prima di questa saga comunque diciamo che nessuno ci ha mai fatto troppo caso al fatto che la banda di Pilaf, per l'appunto, fosse diventata, diciamo, fossero diventati in realtà dei bambini piuttosto che anziani come sarebbero dovuti essere. E comunque, come vi dicevo, la risposta a questa domanda è proprio all'interno di Battle of Gods, in una delle primissime scene dedicate alla banda di Pilaf, in cui stanno praticamente studiando l'irruzione all'interno della festa di Bulma per quindi rubare le sfere del drago ed esaudire il desiderio. E ad un certo punto, credo che vi metterò anche qualche immagine se posso, anche sottotitolata magari, ad un certo punto, mentre stanno discutendo, diciamo, del piano oppure delle loro cose passate, Mai dirà a Pilaf che addirittura erano riusciti una volta ad ottenere le sfere del drago, però cosa succede? Che invece di esprimere un desiderio, ad esempio, di ottenere zeni o diventare i più ricchi del mondo, o i padroni del mondo, Pilaf decide di esprimere il desiderio di diventare giovani e Mai alla fin fine si lamenta anche del fatto che sono diventati fin troppo giovani e quindi proprio dei bambini. Anche se comunque definirli proprio dei bambini credo sia anche sbagliato perché se mettiamo caso che Trunks e Goten hanno rispettivamente 12 e 13 anni, ovviamente Trunks 13 anni, per me sinceramente Mai all'interno di Dragon Ball Super ha anche lei 13 anni e quindi da qui ci possiamo ricollegare al fatto, ed è l'unica spiegazione, che la Mai che abbiamo visto nel futuro di Trunks è proprio la Mai che ritroviamo all'interno di Dragon Ball Super, quindi la Mai bambina o la Mai 13enne che diventa quindi ragazza adulta, 30enne o 25enne magari, all'interno del futuro di Mirai Trunks. E comunque qualche dubbio potrebbe essere dato anche dal fatto, ad esempio, che il futuro di Trunks comunque è abbastanza diverso da quello che abbiamo visto, diciamo, nel presente, quindi i nostri guerrieri sono morti, c'è stato l'arrivo degli androidi che ha stravolto il tutto, che ha ucciso moltissime persone, e ciò potrebbe soprattutto spiegare però il fatto che ci siano stati gli androidi e quindi anche Cell potrebbe proprio spiegare l'assenza di Pilaf e Shu, che quindi si sono separati da Mai e probabilmente potrebbero aver fatto anche una brutta fine, mentre l'unica che si è salvata è proprio Mai. Ora, il fatto del desiderio anche potrebbe essere possibile, perché è vero che i guerrieri sono morti all'interno del futuro di Trunks, però ciò non toglie che c'entrano davvero pochissimo i nostri guerrieri Z morti con, diciamo, come devo dire, con la vita di Mai e della banda di Pilaf, quindi possono tranquillamente essere sopravvissuti oppure sono Mai, anzi, rettifico ancora una volta, direi che possono tranquillamente essere sopravvissuti tutti e tre e possono aver espresso il desiderio, quindi, che si parla in Dragon Ball Super, cioè che Pilaf ha deciso di diventare giovane con il desiderio di Drago Sharon proprio durante, ad esempio, la saga di Selle e quindi durante la giovinezza di Trunks. E, sinceramente, il desiderio espresso da Pilaf io lo ricondurrei, ad esempio, ad un tempo, magari un poco dopo la nascita di Trunks, oppure qualche annetto dopo, in modo che, comunque, la banda di Pilaf, non lo so, bisogna vedere se sono rinati col desiderio di Drago Sharon, proprio come bambini, quindi neonati, e poi sono cresciuti, magari, con gli stessi ricordi, oppure se sono ringiovaniti, comunque, come dei piccoli bambini e poi sono cresciuti, quindi, insieme a Trunks alla fin fine, quindi adesso hanno bene o male 13, 14 anni alla fin fine, e quindi ci ritroviamo con i conti. Vi dicevo, il fatto che il futuro di Trunks sia andato diversamente da, come abbiamo visto, il nostro presente, non vuol dire nulla, assolutamente. La banda di Pilaf può essere diventata tranquillamente, diciamo, bambini, sto un attimo, mi sto un attimo impappinando anche, però, possono essere diventati, ecco, tranquillamente bambini all'interno del futuro di Trunks, però prima, comunque, della morte del Supremo e prima anche della morte, soprattutto, di Dende, quindi bisognava avere soltanto le sfere del Drago a disposizione e quindi c'è stato un periodo, un tempo in cui la banda di Pilaf ha ottenuto queste sfere e quindi sono diventati giovani. Da lì c'è la crescita nel futuro di Trunks, di Mai, quindi, fino a diventare quella che conosciamo adesso e la banda di Pilaf probabilmente, però, ci avrà rimesso le penne, anche perché abbiamo visto che la fin fine è mai comunque sopravvissuta ed ha combattuto, sta combattendo addirittura contro Black Goku ed è sopravvissuta anche addirittura all'ultimo attacco di Black Goku, perché abbiamo visto Mai essere ancora viva, quindi, regà, voglio dire, la remota possibilità che possa essere sopravvissuta, anzi, che in realtà lei è sopravvissuta nel futuro di Trunks, proprio all'attacco degli androidi, alla fin fine è una certezza perché è sopravvissuta e non è neanche una cosa che, diciamo, preclude, non include il fatto che possono essere diventati bambini, non so se mi sono spiegato bene. E quindi bene o male, come avete potuto capire, una mezza spiegazione alla fin fine l'abbiamo e l'abbiamo avuta dal film Battle of Gods. Andatelo a rivedere se volete, perché vi dicevo c'è proprio questa scena in cui parlano del desiderio, appunto, di Pilaf che ha deciso di far diventare, appunto, la banda giovane. Ora, bisogna, ve l'ho detto, bisogna solo ricondurre un pochino nel futuro di Trunks quando possa essere avvenuto, però, ve l'ho detto, la fin fine conta davvero a pochissimo. Però questa cosa è comunque molto importante perché alla fin fine ci continua a creare un distacco con Dragon Ball GT e quindi da qui possiamo veramente capire che si vuole tentare di eliminare definitivamente dalla canonicità, appunto, Dragon Ball GT. Infatti un primo sentore l'avevamo già ricevuto riguardo il fatto che in Dragon Ball GT avevamo Kibit o Shin, mentre qui in Dragon Ball Super abbiamo visto Kaioshin e Kibit tornati di nuovo a due entità separate e quindi hanno sciolto la fusione grazie alle sfere del drago, se non sbaglio. Altro sentore l'abbiamo sicuramente ricevuto dal fatto che sono state create nuove trasformazioni come il Super Saiyan God e il Super Saiyan Blue e quindi ad ulteriore conferma proprio di questo possibile cancellamento dalla canonicità, appunto, di Dragon Ball, che poi tra l'altro si è sempre detto che Dragon Ball GT non era, appunto, canonico. Però ulteriore conferma la riceviamo anche dalla banda di Pilaf, infatti, se in Dragon Ball GT, appunto, troviamo la banda di Pilaf anziana, diciamo, come nella normalità, bene o male, più normale la banda di Pilaf anziana in Dragon Ball GT che bambini in Dragon Ball Super. Però, questo è un ulteriore conferma, infatti, qui li ritroviamo bambini. Però, comunque, c'è stata data almeno una mezza spiegazione, ovviamente. Non ci hanno fatto vedere il tutto ed è questo che ci ha portati un pochino ad avere non pochi dubbi del perché, appunto, mai possa essere adulta nel futuro di Trunks, quando alla fine l'abbiamo lasciata adulta all'inizio, anzi, alla fine, perché all'inizio di Dragon Ball. E quindi, ragazzi, direi che possiamo concludere qui anche questo video. Non è stata assolutamente una passeggiata a registrarvelo, però in un qualche modo credo di essere riuscito a trasmettervi il messaggio, almeno credo. Comunque, fatemi sapere, ovviamente, nei commenti cosa ne pensate di questa teoria, se si può chiamare teoria, oppure di questa possibile spiegazione che ci è stata data all'interno di Battle of Gods, quindi per spiegare, in qualche modo, del perché mai risulta essere una ragazza giovane oppure una ragazza adulta, piuttosto che anziana, all'interno del futuro di Trunks. Quindi, spero ancora una volta che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete, iscrivetevi, se ancora non siete iscritti e quindi vi do appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.